FUNK! Praticamente io essendomi operato la mano destra e usando il mouse con la mano destra avendo un zesso sulla mano destra mi è un pochettino difficile usare il mouse nella mano destra quindi io userò il mouse con praticamente tre dita in punta quindi sarà un pochettino difficile ma non temete ce la faremo. Un attimo che ho messo fiato perchè sono partito subito in bomba e basta allora vediamo com'è questo giochino qua una faccenda privata. Ok noi siamo venuti qua ok perfetto Senza passare questo ok facciamo oltre così ok facciamo oltre anche qua ragazzi chiedo scusa però io avevo già iniziato questo gioco qua solamente che me l'ha dato in pallone. Prego prego ci figuri Non sai di che No prego prego Vederci Tira Olè Riderci grazie Arrampicchiamoci per di qua Checkpoint Checkpoint Travestimento T Ok Ok Adesso sono meraviglioso qua non si può Però dobbiamo trascinarlo da qualche parte Allora vi chiedo ancora scusa se è iniziato così dal nulla E che ho dovuto disinstallarlo e installarlo da capo perchè mi ha dato errore mentre registravo col programma E non so il perchè e quindi è ricominciato da dove dove si era cresciato il gioco E quindi siamo infiltrati nella villa Praticamente La missione sarebbe stata ok la missione è partita da un giardino botanico praticamente dove abbiamo superato un giardino con varie guardie E' praticamente il classico tutorial insomma ha fatto anche un bene arrivare subito qua Praticamente in un certo senso Così vi siete risparmiati Una sfilza di cose qua chi c'è Prova 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 Travesti Toc 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 Ok fatto Perfetto Siamo apri Grazie Ottieni la chiave magnetica Ok Oh buonasera a tutti Sono un collega nuovo Se non sapete chi sono Lo capisco Wow 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 Buonasera Un cuoco Io essendo poco ma anche mi interessa Contro Ah quindi noi dobbiamo prenderli A lui Ma c'è qualcosa No non voglio entrare in frigo Coltello Lo prendiamo Bene bene grazie Qua cosa c'è Niente Apri Oh buonasera Oh buonasera Ragazzi Ragazzi scusate ma sono assai impegnato a capire come fare Questa è Questa è Dov'è il tuo tipo di tante, perfetto l'acqua, perfetta temperatura. Il Chef le serve di fare il coffee. Però ho avuto un glimpsio dei documenti l'ultimo giorno quando ero in un'escovita. Abbavano un logo di loco di scuola e del pezzi, in quella parola, per favore, signore, questo è un ordine di vacanza. Verso... L'Ethno Trade? Guarda, non mi vuoi... Non mi vuoi... Non mi vuoi... Non mi vuoi dire... Non mi vuoi dire... Vado quello che dicono sul Teatro e questo grande trip. Ok. Questa donna non è solo un po' di stragi, ha detto? Primo soccorso Olè Qua Scambio radio col coltello No Qua ci deve essere qualcosa Per forza Ma guarda dove sono arrivato io Usa l'instinct Per trovare obiettivi di interesse Ecco quindi Cosa dovrei fare Ok Per di qua Salve Perché c'è un bicchiere che sta volando Per di qua Scusate ma Ragazzi voi Qua Oh Chi è che sta corriendo Ah mi dispiace Ho creato il macello ragazzi ragazzi aiuto Ragazzi è un stealth Però Però no Oh Headshot Tanto ho avuto la scheda magnetica Grazie Arrivederci Dai Dai su ragazzuolo Io sono abituato a giocare a Unreal Tournament E tu mi vieni per di qua Magari questo qua è diverso No eh Perfetto Ottimo Però ho fatto 2600 punti Con un po' di strage Questa qua era impossibile Falling starter Scusate ragazzi Cioè Come la puoi fare Nascosto Se non riesco a trovare qualcosa All'enemies Have been dealt with Not the cleanest approach But you are still alive And they are not Eh vetti Eh già Sblocca All'enemies No one is aware of your identity And no one is suspicious Of your disguise Well done 47 Now remember Diana brought this on herself Oh le tendine colorate Wow Wow Che porta Porta Verso Ehi la Buongiorno Ma scusa Avevo un altro vestito No eh Oh su no Dai No Perché Ah respira ancora Più che sangue Quella sembra gingerino Però va bene Oh che crudeltà E' tutto diverso Cioè Su Silent Assassin Era su un convento di preti Dai so cos'è Forty seven Forty seven Oh 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 We put it 47 Na放鼓了 I should kill you Why did you do this Forty seven We all Have our limits Even you Forty seven We used to have honor Diana Dai No I had to take her away from the doctors Because I knew You would understand Fuck Something's not right Evidentemente che dici Ragazzone It won't last long There's no time You still have a chance In my room A letter Now go Take the girl And run Oh Un soldino Please Do not let her turn to you Promise me I promise Diana individuata Noi ci siamo cambiati nel frattempo Per di qua ragazzi Can deal with enemies swiftly and with great precision Note that while you are focusing on your targets You expand instinct rapidly Turn the camera to focus on your enemy Then lock the shot Fatal damage Focus on the next enemy Make sure to deal fatal damage to all four enemies Shot locked Aim for the head Or keep pulling the trigger to inflict fatal damage All enemies are dealt with Now execute the attack Ragazzo Oh Oh Ti picchi Oh Ciao Ciao Ragazzino Ciao Mi sa che siete morti Tutti e Tutti e quattro Tutti e quattro Perfetto Daya E' Diana questa Si Perché l'altra era No non ci sto più capire niente E' sveglia Eh già Eh si Ehi Oh Oh Che tiberia qua eh La macchinetta La macchinetta Ha pochi soldi Ma che ca... What are you doing? Why did the agency want you? I don't know I guess I might have found... Diana did this for you Why? Please She was my only friend She took me away from the doctors Ah praticamente lui scopre Perché ha questi Praticamente Dei superpoteri Ah Non hai capito Ma sarà un video abbastanza lunghetto eh Ragazzi miei Destrezza arma Ragazzi Yeeey 7250 punti Ottimo Abbiamo fatto Mille di punti Mille punti Per essere stati scoperti E mille E 2500 Di vittime Non necessarie Però Ragazzi Mica cazzi eh Quindi Per oggi è tutto Ci vediamo domani Perché come vedo Questo tocco riesco a farlo anche con Tre dita sul mouse E quindi Non so più che dirvi Altro che Ci vediamo domani E bella a tutti Sì Grazie a tutti